Movida Loka Television 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 Un gran bel saggio Anna Orlando New Fuego Caliente Dance Scuola di Balo di Casalove In provincia di Napoli Ovviamente dove i più grandi eventi contano Noi ci siamo La truppa è completo Ringrazio Angelo Moscati alla camera Raffaele Didio alla parte fotografica Luciano De Santesi che ha curato Tutta la parte musicale E ovviamente voi che siete stati e ovviamente voi che siete state lì comodi 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 a guardare Movida Loka Television Movida Loka Television Movida Loka Television Movida Loka Television